Ragusa a Catania, fissati per oggi pomeriggio due incontri presso la sede dell'ANAS a Roma per fare il punto sul cronoprogramma dell'Opera. Assemblea regionale siciliana, taglio dei deputati da 90-70, previsti dalla nuova legge anche per la provincia di Ragusa, meno rappresentanti. Sanità all'ASP di Ragusa chiede il rinvio dei tavoli a dopo le amministrative, critiche nei confronti di Gilotta dal Comitato a difesa della Regina Margherita. Vittoria continuano le proteste per le mancate riprese di TV del Consiglio, l'opposizione abbandona l'aula tranne il PDL che allunga la seduta fino alle 3. Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Free News. In apertura di questa edizione, come avete sentito dei titoli, ci occupiamo del raddoppio della Ragusa-Catania, fissati per questo pomeriggio a Roma. Due incontri che si terranno presso la sede dell'ANAS della capitale. Obiettivo? Capire i tempi fissati dal cronoprogramma. Vediamo. Altra tappa fondamentale oggi per la Ragusa-Catania. Il Comitato Ristretto, presieduto dal Presidente della Provincia Franco Antoci, proseguendo nell'azione di monitoraggio per la realizzazione della nuova autostrada, ha fissato per oggi pomeriggio due incontri a Roma per fare il punto sul cronoprogramma dei lavori. Dopo l'individuazione del concessionario dell'Opera, ovvero il consorzio composto dalle imprese Sirec, Aegis, Mec, Tecnis e Maltauro, il Comitato ha programmato due incontri a Roma, a partire dalle ore 15 nella sede dell'ANAS per avere il cronoprogramma certo dei tempi di realizzazione dell'Opera. Il Presidente della Provincia Franco Antoci e i componenti del Comitato incontreranno prima il dirigente generale del project financing dell'ANAS Settimionucci e successivamente il concessionario dell'Opera. La realizzazione dell'importante infrastruttura prevede, lo ricordiamo, una spesa di circa 815 milioni e l'Opera dovrà essere realizzata entro cinque anni. E ci occupiamo adesso dell'Assemblea regionale siciliana. Tra le novità che riguardano il Parlamento siciliano c'è il taglio del numero dei deputati da 90 a 70. Ciò significa una riduzione da 5 a 3 o al massimo 4 deputati per la provincia di Ragusa. Dunque diventa ancora più ambito e uno scranno a Sala d'Ercole. Vediamo. I deputati regionali tagliati da 90 a 70. L'importante provvedimento che riduce il numero dei parlamentari regionali di 20 unità. Era stato già approvato lo scorso 6 dicembre all'Ars. Il Senato ha approvato in prima lettura i DDL costituzionali che modificano oltre allo statuto speciale della Sicilia anche quelli di Sardegna e Friuli, Venezia e Giulia. La revisione è passata con il consenso di tutti i gruppi parlamentari e i disegni di legge passeranno ora all'esame della Camera. Tornando alla Sicilia la riduzione dei deputati di Sala d'Ercole porterà conseguentemente una riduzione dei rappresentanti iblei. Nell'ultima tornata elettorale nella nostra provincia erano cinque i posti disponibili anche se la legge elettorale ha permesso l'elezione di un sesto rappresentante ovvero Roberto Ammatuna del PD. Con la nuova legge saranno tre o al massimo quattro gli eletti dai cittadini ragusani. Fatti conti uno del PDL e uno del PD. Nel terzo in milico tra le varie forze basti pensare a UDC, PID, Grande Sud, MPA e i partiti della sinistra senza dimenticare i movimenti territoriali che a questo punto dovranno ingegnarsi per trovare strategie e accordi alleanze per arrivare alla soglia dello sbarramento del 5% e provare sul filo della soglia a conquistare la poltrona. A questo punto si faranno sempre più complicati i giochi per chi come il sindaco di Ragusa Nello di Pasquale mira a Sala d'Ercole non trovando spazio all'interno del PDL ha pensato bene di crearsi un proprio movimento e poter aspirare a far parte dei 70 parlamentari. E a questo punto la bagarre si fa davvero interessante anche all'interno dei singoli partiti. Come detto un posto al massimo due per PD e PDL per tanti espiranti vecchi e nuovi che dovranno sgomitare e stringere accordi tra le varie correnti e le varie fazioni. Ci occupiamo adesso di raccolta dei rifiuti. Si estendono in quasi tutta la provincia di Ragusa le proteste da parte degli operatori ecologici. Gli operatori di otto comuni infatti hanno aderito alla protesta e il rischio è la paralisi dell'intero servizio. Sul piede di guerra gli operatori ecologici di otto comuni su dodici della provincia di Ragusa. A rischio è l'intero servizio di raccolta rifiuti che potrebbe scatenare una vera e propria emergenza sanitaria. Per scongiurare questo rischio chiesto l'intervento del prefetto. La CGL di Ragusa, dichiara Giovanni Lattuga, segretario provinciale della categoria, chiede al prefetto di Ragusa Giovanna Cagliostro la convocazione dei sindaci di otto comuni delle imprese ecologiche che gestiscono il servizio nettezza urbana nei liquidatori del lato ambiente al fine di scongiurare una imminente paralisi del servizio. Se questo incontro, continua il segretario, non dovesse avvenire in tempi brevi, indiremo uno sciopero generale. I lavoratori non percepiscono lo stipendio da qualche mese. In particolare gli operatori ecologici di Pozzallo, Acate e Giarratana aspettano le mensilità di febbraio e marzo. Quelli di Ispica, Scicli, Santa Croce, Modica e Comiso non hanno invece ancora percepito la mensilità di marzo. Nonostante ciò gli operatori stanno continuando a lavorare proprio per scongiurare la paralisi. Intanto lunedì si terrà la prima assemblea dei lavoratori a Ispica dalle 10 alle 12, il 30 un'intera giornata di sciopero interesserà invece Giarratana. Già stamattina potrebbero riunirsi in assemblea i lavoratori di Scicli. Per quanto riguarda Comiso, il segretario Lattuca ha dichiarato se entro questa settimana il sindaco emetterà il mandato di pagamento all'azienda, entro il 30 aprile i lavoratori potrebbero ricevere la mensilità di marzo. Se ciò non accadrà, anche nel comune Casmenè organizzeremo delle giornate di protesta. Ci occupiamo adesso di sanità. In vista delle elezioni amministrative che riguardano alcuni comuni della provincia Iblea, il direttore generale dell'Aspi di Ragusa, Ettore Gilotta, ha chiesto un rinvio dei tavoli tecnici a dopo la tornata elettorale. Sentiamo. Un rinvio dei tavoli tecnici sugli ospedali a dopo le elezioni amministrative. Questo quanto chiesto dal direttore generale dell'Aspi di Ragusa, Ettore Gilotta, per affrontare le questioni che riguardano la sanità Iblea in generale e i singoli nosocomi in particolare. Gilotta ritiene consenso di opportunità e di responsabilità istituzionali di illustrare l'assetto organizzativo dei vari presidi sanitari provinciali dopo la tornata elettorale del 6 e 7 maggio per evitare che possa diventare terreno di scontro politico. In merito alle richieste peraltro fatte con tono ultimativo poco consono a rapporti tra enti istituzionali di convocazione di tavoli tecnici sull'assetto organizzativo dei vari presidi provinciali, il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale eblea, Ettore Gilotta, spiega di ritenere poco opportuna qualsiasi convocazione di tavoli tecnici riguardanti i vari nosocomi ricadenti nella sfera di competenza dell'Asp. Dichiarazioni che hanno il sapore però di un voler rinviare la questione per evitare scontri con amministratori locali e con i comitati, anche di quei comuni dove non si vota. Per Nunzio Bertino, esponente del Comitato a difesa del Regino Margherita, si tratta di una scusa per evitare il confronto sul nosocomio casmeneo, visto che a Comiso non ci sarà la tornata elettorale, una posizione di chi non ha rispetto delle istituzioni dei cittadini comisani, perché da novembre fino ad oggi i tavoli e gli incontri sono stati solo un palliativo per rinviare la decisione di un taglio drastico dei servizi sanitari a Comiso, con una ricaduta negativa sulle altre strutture ospedaliere dell'intera provincia. Per questo motivo la mobilitazione del Comitato continuerà a proseguito Bertino e nei prossimi giorni ci sarà un incontro del coordinamento per decidere le azioni da intraprendere nei confronti dell'ASPE e del manager Gilotta. Cambiamo argomento, è stata presentata questa mattina a Ragusa la nuova sede degli uffici tributari del Comune. Vediamo. Conferenza stampa stamattina al Comune di Ragusa di presentazione della cosiddetta palazzina tributaria. Gli uffici idrico Tarsu, Tosap, Imu ed Economato, che finora si trovavano nei locali del Ponte Giovanni XXIII, sono infatti stati trasferiti in una palazzina di nuova costruzione in via Mario Spadola all'interno dell'ex consorzio agrario. L'edificio è composto da tre piani, il secondo dei quali sarà dedicato al settore tributi. 12 le stanze e una sala d'attesa di 90 metri quadri per un totale di 600. Gli uffici stanno già operando il trasloco di tutto il materiale presente nella vecchia sede, pertanto l'ufficio idrico dal 16 aprile è chiuso al pubblico, l'ufficio Tarsu della Tosap e Imu sono invece chiusi da oggi. Per quanto riguarda infine l'ufficio Economato, da oggi fino al 30 aprile si è momentaneamente trasferito nei locali dell'ufficio turistico di Piazza San Giovanni. L'apertura al pubblico della nuova struttura è fissata per il 2 maggio, mentre per l'inaugurazione ufficiale l'amministrazione vuole aspettare che l'edificio sia dotato di un front office, per il quale però bisognerà aspettare il bilancio di previsione che, assicurano da Palazzo dell'Aquila, dovrebbe essere approvato entro poche settimane. Siamo adesso alla pagina di cronaca in osservanza degli obblighi di istruzione scolastica. Con questa accusa sono stati denunciati ieri ad Acati i genitori di sette lunni minorenni, otto rumeni e una donna polacca. L'operazione si inserisce nell'ambito dei controlli realizzati dai carabinieri della Compagnia di Vittoria, negli istituti scolastici del territorio di pertinenza. E a Chiano Montegulfi furto e danni di un'azienda. I gnoti hanno rubato circa 3.000 litri di gasolio, un personal computer e utensili da lavoro. Il furto è stato denunciato ai carabinieri della locale stazione dai responsabili della ditta. A Ragusa un rumeno di 17 anni è stato denunciato per ricettazione. Gli agenti della Polizia infatti lo hanno sorpreso alla guida di un motorino rubato. Sentiamo. Denunciato a Ragusa un rumeno di 17 anni sorpreso alla guida di uno scooter rubato. Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, gli agenti della sezione volanti della questura hanno denunciato il stato di libertà, il giovane rumeno. Durante la serata di ieri gli agenti di una a volante hanno bloccato il conducente di un malaguti F10 che vedendo l'auto di servizio ha provato repentinamente a cambiare direzione di marcia, presumibilmente al fine di eludere il controllo. Il ciclomotore è stato fermato in via Archimede. I poliziotti hanno notato subito che il quadro di accensione era danneggiato. Subito è stato effettuato il controllo alla banca dati Interforce e si è constatato che il ciclomotore era stato rubato e il proprietario aveva presentato la denuncia di furto presso i carabinieri del capoluogo lo scorso 11 aprile. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario mentre il giovane rumeno è stato denunciato il stato di libertà alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania per il reato di ricettazione. Proseguiamo ancora con la cronaca. Carmelo Zacco, ispicese del 42enne, disoccupato, accusato di estorsione e minacce aggravate, è stato condannato a due anni e tre mesi di reclusione dal giudice monocratico del Tribunale di Modica. I fatti risalgono al periodo compreso tra il gennaio e il marzo del 2006. L'uomo era stato denunciato dalla madre stanca delle continue richieste di denaro del figlio e delle sue minacce. Anche il fratello era stato vittima di un simile trattamento. Una 27enne modicana è stata deferita in stato di libertà all'autorità giudiziaria dai carabinieri del nucleo operativo di Modica. Ad un controllo mentre era alla guida della sua autovettura, la giovane si è rifiutata di sottoporsi all'accertamento dell'eventuale stato di ebrezza. Ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria. Torniamo tra poco.